Sono con Maurizio Musolino qui in presidio organizzato per manifestare appunto il fatto che l'Italia non sia poi così contenta della visita di Netanyahu a Roma, è un presidio anche osteggiato forse per problemi di ordine pubblico, è stato spostato e siamo qui appunto davanti al Vaticano Maurizio, perché l'iniziativa di oggi? Innanzitutto oggi è l'ultima dei 3-4 giorni di iniziative che si sono tenute in tutta Italia, l'iniziativa di oggi come l'iniziativa che ci sono state in questi giorni era per dire che Netanyahu non è assolutamente un ospite gradito qui in Italia e non è un ospite gradito per molte ragioni, innanzitutto perché oggi lui è qui a Roma per discutere di accordi militari con lo Stato italiano e noi crediamo che questi accordi non solo non si debbono fare ma bisogna rigettare anche quelli già fatti perché servono ad uccidere uomini e donne in Palestina. Secondo motivo perché Israele continua a non rispettare decine e decine di risoluzioni delle Nazioni Unite e questo fa sì che la comunità internazionale dovrebbe assumere una posizione importante e coraggiosa, ovvero mettere al bando Israele, intensificare il BDS, il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni perché è l'unico modo per costringere questo Stato ad affermare una cosa banale, a rispettare la legalità internazionale, cosa che oggi non rispetta. Quindi Netanyahu non è ospite gradito e noi siamo qui a dirlo.